Beh, non solo volevo viaggiare per il mondo, sperimentare, vedere e riprendere i maestri di saggezza. Volevo anche intervistare i leader di pensiero moderni e parlare del potenziale umano e tutte le esperienze avute viaggiando per il mondo in cerca di superumani. Dato che si chiama alla ricerca di superumani, cerchiamo esperienze superumane. L'esperienza è per tutti noi. Vogliamo tutti sperimentare il potere e il potenziale che abbiamo in noi e queste interviste aiutano a seguirci in quell'esperienza, ci aiutano ad attingere e a rispondere alla domanda perché. Che significato ha tutto questo? Perché siamo in grado di fare certe cose? Perché pensiamo in questo modo? Perché questi maestri sono in grado di fare cose speciali e coltivare le loro abilità? Come è possibile?